Le notizie in 60 secondi. Il 19 luglio partiranno i traghetti che collegheranno Ischia, Bacole e Procida da lunedì al venerdì. L'albergatore Sandro Florenzo su Facebook lancia il movimento Ischia Isola Verde che si candida alle elezioni amministrative del prossimo 2027. Alle 19 andrà in Ondra a linea di confine dove si parlerà della storia di Eleonora Bono, una giovane di 19 anni affetta dalla sindrome di Down che si è diplomata con il massimo dei voti e lode presso l'istituto alberghiero Telese di Ischia. Al giovedì Foriano presenti anche i calciatori dell'Ischia, Brienza, Mattera, Padindi, Costanza e Matarese per festeggiare gli ultimi giorni insieme. Il portiere Claudio Mazzella chiude la sua bella parentesi con l'Ischia, calcio dopo due stagioni. Con un disegno di legge approvato in Senato arriva un duro colpo alla pirateria online. L'Aula ha approvato definitivamente il disegno di legge 621 che sarà utile per favorire la prevenzione e la repressione della diffusione illecita in rete di contenuti tutelati dal diritto d'autore. Prossimo appuntamento alle 20. Prossimo appuntamento alle 20.